Continua la campagna vaccinale per gli oltre 80 anni in Irpinia, seppur con qualche difficoltà, ieri si sono vaccinati i primi 698 anziani che si sono recati nei 5 centri vaccinali già pronti, Montella, Lioni, Ariano, Bisaccio e Sant'Angelo dei Lombardi. Se in questi ultimi due punti tutto è filato liscio, negli altri tre centri si sono avuti problemi per mancanza di siringhe. A Montella, Lioni e Ariano infatti le vaccinazioni sono cominciate anche con un ritardo di due ore, come nel caso di Montella, ritardi che hanno comportato anche problemi di assembramento, come si è verificato ad Ariano. Alla fine, tra ritardi e polemiche legate anche alle convocazioni, alcuni hanno ricevuto un messaggio sul proprio telefonino alle 23.30, la prima giornata è andata. Questa mattina sono riprese le vaccinazioni, in attesa che vengano ultimate anche le altre postazioni. Sono 22 in tutto quelle individuate dall'ASL con i sindaci irpini, distribuite in base alle 12 aggregazioni funzionali territoriali per un totale di 50 box per la somministrazione di vaccini. Sono arrivati a 18.369 gli anziani irpini prenotati attraverso la piattaforma della regione. Le vaccinazioni vengono effettuate sette giorni su sette, dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.30. Tutto questo con la disponibilità dei vaccini. E infatti la domanda oggi è proprio questa. Quando arriveranno gli altri vaccini? Nei prossimi giorni, quando saranno pronti anche gli altri punti vaccinali? Ci saranno le dosi per tutti? Si rischia a breve uno stop?